Ragazzi, io mi scuso in anticipo con tutti i fan di Sonic per questo gioco, Sonic Suggests, con il menu più bello del mondo, con un logo in PNG, premi Enter per iniziare, senza musica, senza niente, uno dei giochi di Sonic più brutti e stupidi che io abbia mai visto. Infatti vi stavo dicendo che se vi piace Sonic, insomma, potrei traumatizzarvi un po' con questo gioco, ma non vi preoccupate, resterò traumatizzato anch'io, resteremo traumatizzati tutti, iniziamo, prima che impazzisco, nel menu principale. Sto davvero per premere... mi è esploso un orecchio! Quello... io devo anche commentarvi il perché questo gioco vi lascerà traumatizzati, quello Eggman con due bocche, due bocche, una sui baffi e una con i denti, ha lanciato una palla contro Sonic, Sonic è inciampato, lui sta ballando Gangnam Style e Sonic è stato catturato da una Pokéball lanciata da Eggman. Oh mamma mia, è già iniziato il gioco! Guardi, sono un fidget spinner! La gola, mi fa tutto male! Eccoci nel mondo di... Guardatelo, guardatelo in faccia, per favore, guardatelo bene! Guardate quanto è bello! Sonic Suggests! Ma posso anche saltare... addirittura! Guarda fa le capriole finte Cioè fa tre capriole ma si blocca in aria Ma come non è possibile Non è fisicamente normale Una cosa del genere Però I'm the speed I'm the speed Guarda che non ce la fa manca correre Speed No si butta nell'erba e esplode Guarda che bello Sonic suggests Sembra anche carino graficamente Poi lo guardi in faccia E ti rendi conto che hanno preso una scimmia L'hanno colorata di blu Ci hanno messo gli spuntoni da porcospino E poi l'hanno buttata in questo gioco Veramente ambiguo Dove il boss finale è Eggman Però Eggman con due bocche E soprattutto completamente psicopatico Che cosa è successo? Ma che è sta visuale? Cosa sta pensando alla vita? Va bene non ci pensiamo alla nostra di vita Visto che stiamo giocando questa cagata Oh c'è Tails No ma hanno bullizzato Tails Ma che sono coccinelle rocche schifo Ma sono bruttissime Prendi i soldi Tails No si sta mangiando Tails Aspetta vieni qua Maledetto infame E quindi questa è la nostra avventura contro Eggman Stavo dicendo quello già è psicopatico di suo Figuratevi sopra sto gioco No vabbè io non ho parole Io non so cosa andremo ad affrontare alla fine Quale bestia sarà Eggman Oh ci ho preso la mano Oh ci ho preso la mano Guarda come salta Vai Sonic Eh senti Tails Patti chiari amicizia lunga Non è che io ti faccio raccogliere i miei soldi E tu me li Oh 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 Guarda quanto salta E tu me li fai perdere Vieni qua Aspetta Attenti siamo due imbecilli che stanno saltando Bravo Tails Te l'ho detto che tu sei il migliore Non ditegli che non gliel'ho detto E che l'ho insultato fino ad ora Perché potrebbe arrabbiarsi E visto che questo gioco è tutto malato Potrebbero picchiarmi Cosa ho appena fatto esplodere Cos'è sto? Io ho Cosa sto facendo esplodere? Vai Tails Ok Per fortuna non muoio spiaccicato Mamma mia io odio i girasoli Maledetti Girasoli Scusate ho bisogno di provare questa roba Signori e signori Il gioco del secolo Nel frattempo Ho parcheggiato Sonic Potevo farmi una bevuta Giocare a carte Giocare un altro gioco di Sonic Che magari non faceva così schifo Oh eh Ma poi guarda è brutto Ma che sono? Sono dei mini motorini Coccinella Bruttissimi Vieni qua Vieni qua Oh Mi sono cagato addosso E' apparso Tails dal Levi Se Oh Ho perso tutti i soldi Ma perché si è messo a quattro zampe? Ah quando prendo danno Sonic si mette a quattro zampe Mamma mia è tutto storto L'hanno fatto con la Cerapongo Guarda Che schifo Riprendi tutti i soldi Che li abbiamo persi Guarda I'm the speed Speed Sono fortissimo Fra guarda Ah ovviamente Non vi ho detto la cosa più divertente La visuale non si può girare La visuale non si può girare Cioè questa è la visuale Di gioco di Sonic Che è nudo Lasciamo perdere Andiamo avanti Questo è un gioco bellissimo di Sonic E qua c'è un pulsante enorme Enorme Oh mamma mia Aspetta No No Non volevo saltare Infame Siamo arrivati alla boss fight Guarda qua Che inquadrature Ma posso risaltare giù? Ah cioè Continuo a fare le capri Sono vivo Sono vivo Dietro la cascata C'è qualcosa No non c'è niente dietro la cascata Perfetto Risaltiamo Povero Tails Ormai l'ho fatto vomitare Perfetto Siamo arrivati Tails Voglio vedere Tails di faccia Fammi vedere Credo che Tails sia leggermente invecchiato E guarda E terrificante Ma poi perché non guardano in camera E guardano per terra? Che ci avete perso i soldi Avete perso gli spicci Wow The speed Che schifo Il fatto che non possa girare la visuale Non si può girare la visuale Su sta cagata di gioco C'è Knuckles Da dove è uscito Knuckles? Aspetta Guarda Vabbè che esiste Uganda Knuckles E quindi Ci può stare Che sia strano Ma perché È tutto rotto Sto gioco Sonic Che quando viene colpito Va a quattro zampe Che schifo è Knuckles Perché è lungo Sembra il cane di Let me do it for you Signor editor Adesso metta Knuckles Di faccia E sotto Let me do it For you Let me do it For you Ok Quando ci sarà la boss fight Datemi la boss fight Guarda qua Guarda qua Boom Guarda Schifoi Non mi ha preso Non mi ha preso Non mi ha preso Gli ho saltato in destra Non mi ha preso È bello È inutile che fai il furbo Guarda che non mi hai preso Guarda il pavimento Tutto Tutto montato male Questo gioco è tutto È tutto storto Tutto di Pongo Che schifo Di Pongo Che sono io Capito Io sono Pongo Dongo E gioco solo a gio Gioco solo a giochi di qualità Aspetta 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 Loro praticamente fanno Attacco Pazzo Sgravato Loro non è che saltano sui nemici Loro ci corrono in bocca i nemici Ah lì vedo forse l'arena della boss Fate Fate voi Stavo dicendo Vedo l'arena della boss fight Uccidiamoli tutti Uccidiamo Bravi Quello sta saltando Quella era una coccinella saltellante Aspetta Bravi Mamma mia Correte Sonic Sonic speed Sonic speed Guarda qua Vai Boom No 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 Gli ho dato una testata Non andava per niente bene Ecco perché vi ho chiesto scusa all'inizio del video Perché diciamo che questo gioco È un po' Particolare Cioè nel senso che è particolarmente brutto Cos'è sta cosa blu? Ma Ma Mega Spri Aaaaaah Che succede? Ah sono morto Mi ha lanciato nell'iperspazio Tipo il team rocket Avetevi? Ecco perché si chiama mega spring Mega sprint Mega qualcosa Lì c'è l'arena del boss finale Sono pronto Corri Sonic Corri Puoi andare più veloce di così Mi sa che non è tanto Sonic Sto Sonic È un po' Storto E qui Dovremmo combattere contro Eggman E infatti Eccolo là Stupido Vieni qua Vieni qua Che cosa sto giocando Guardalo Guardalo No 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 Non ci posso credere Ce l'ha fatta Come lo faccio a distruggere? Eh Knuckles Tails Una mano Come 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 si combatte questa cagata? Ah Non è che devo salire Su queste colline E poi buttarmici sopra? Aspetta Guarda Aspetta Qua c'è un C'è un pulsante Devo Premi il pulsante Premi Oh e premilo Sto pulsante Come faccio? Eh ragazzi sto impazzendo Sembra di sconfiggere l'ender dragon su minecraft Ma versione stupida Vai 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 Wow L'ho preso no? No ragazzi Ragazzi l'ho preso però Io non ho capito come faccio ad attaccarlo Funziona Cioè basta saltargli sotto E c'è È morto in T-Pose Io non so cosa commenta Gli ha tirato un calcio L'hanno buttato L'hanno buttato in acqua in T-Pose L'hanno buttato in a È annegato in T-Pose Sta succedendo tutto troppo in fretta È diventata Attack on Titan Che cosa? Ragazzi qualcuno che mi spiega per favore Che cosa sta succedendo Sono Sonic, Knuckles e Tails Che sono diventati Satana Grazie per aver giocato Tu Ma Sono Più confuso Di quando ho iniziato E ci siamo ritrovati esattamente nel punto in cui abbiamo iniziato Questo è stato tipo un trip mentale E? Che